Chiederei al sindaco di Forlì Roberto Balzani di venire per il suo intervento. Forlì è una provincia in cui si sta mettendo in discussione e si è aperta una riflessione su percorsi di ripubblicizzazione a partire dalla questione rifiuti per la concessione che è in scadenza ma ovviamente allargando il discorso al tema dell'acqua e al tema della ripubblicizzazione quindi dei servizi idrici e dei servizi pubblici in generale. Grazie, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Devo dire che noi abbiamo una strana particolare situazione che forse capita in altre parti d'Italia e cioè è sulla stessa idea di società pubblica che gestisce i servizi pubblici perché da noi si dice abitualmente che non c'è nessun problema in Emilia Romagna essendo già praticamente soprattutto nel territorio delle ex legazioni pontifice cioè da Modena verso il mare praticamente i beni comuni gestiti o da era oppure da holding, società, consorzi che sono comunque totalmente pubblici. Quindi il problema non sussiste, noi l'abbiamo già risolto e siamo tutti felici e contenti. In realtà a me pare che invece il problema esista non solo naturalmente da noi e non è soltanto ovviamente il caso di era le multiutility di grandi dimensioni sono in tutto il nord del paese, il centro nord del paese e la mia esperienza è un'esperienza che è molto legata a questa particolarità del movimento dei beni comuni perché noi nella gestione, nell'esperienza amministrativa noi ci siamo resi conto che in realtà le amministrazioni locali oggi anche se partecipano formalmente di strutture, a strutture pubbliche, maggioranza pubblica che hanno il controllo dei servizi pubblici locali non sono i soggetti che definiscono le politiche ma sono spesso dei terminali di politiche che sono decise da altri. Questo argomento è diventato da pochi anni anche oggetto di riflessione della scienza politica italiana. Se voi prendete il fascicolo della rivista italiana di scienza politica di aprile di quest'anno c'è un articolo di tre colleghi, io sono un professor universitario che sono tre colleghi che si sono occupati del tema politica e politiche delle società partecipate e le aziende dei comuni come unità di analisi della democrazia locale. Ve lo consiglio caldamente perché è uno dei primi saggi nei quali si assume il tema delle partecipate non come un problema di gestione, quindi di efficienza di gestione va al meglio la società in house, la società della gara a doppio oggetto la privatizzazione sotto il modello gestionale ma si assume il tema delle società partecipate come attori politici indipendenti come tali in grado di produrre politics cioè di indirizzare la politica in senso largo e policies cioè le singole azioni politiche. Fra l'altro si dimostra in questo saggio che ha poi una base anche di ricerca empirica basata su alcune delle principali regioni italiane che anche là dove queste società attraverso soprattutto sistemi di corporatization cioè di trasformazione in società per azioni hanno fatto entrare entità private soggetti privati nei consigli di amministrazione il capitale comunque di investimento è rimasto largamente pubblico cioè l'apporto del privato è stato un apporto che è significativo nella componente decisionale ma non è significativo nella componente finanziaria e questo sappiamo è uno dei problemi della privatizzazione all'italiana e cioè che i famosi privati che dovevano portare i soldi per gli investimenti in realtà gli investimenti non li hanno fatti. Attenzione, il problema degli investimenti è un problema anche per le società pubbliche perché noi sappiamo benissimo che anche le nostre società pubbliche anche quando le riportiamo in house o le ripubblicizziamo hanno il problema finanziario come problema fondamentale accanto a quello gestionale cioè della qualità gestionale dei servizi finanziario perché sappiamo che gli investimenti nel nostro paese dovrebbero essere fatti massicciamente mentre il ritorno dal punto di vista delle tariffe è un ritorno a lungo termine. Quindi questo problema è un problema aperto e secondo me ci riconduce alla questione irrisolta dagli anni 90 cioè dalla fine della stagione delle municipalizzate delle vecchie municipalizzate nate con la legge Giolitti del 1903 e rimaste sostanzialmente coerenti fino agli anni 90 quando si pensò che il ricorso a forme diciamo miste potesse essere l'avvio del superamento di questi limiti delle municipalizzate ci riporta ancora quel problema lì sono passati 20 anni e noi abbiamo ancora il problema di costituire di definire per legge attraverso delle forme efficaci e efficienti società pubbliche che riescono a reggere nel mercato oggi perché questa è una questione fondamentale perché siamo consapevoli anche del fatto che molte di questi sistemi pubblici locali hanno delle società anche pubbliche inefficienti quindi quel problema è aperto ma è un problema giuridico è un problema organizzativo ed è un problema di approvvigionamenti finanziari che vanno trattati insieme perché noi non possiamo pensare solo di risolvere la forma giuridica e poi dopo di lasciare questi gruppi di persone a sé stanti anche con il controllo dei comuni dei cittadini ci può essere il controllo di tutti ma se i soldi per gli investimenti non ce l'hanno queste società vanno a sbattere di sicuro e ci ritroviamo al punto di partenza quindi questi temi che sono giustamente come diceva Rodotà devono essere temi al centro dell'agenda politica di un paese perché significa organizzare pezzi di beni comuni al di fuori della sfera del mercato in senso stretto ma con criteri che comunque debbono assicurare la parità nella gestione la parità di bilancio nella gestione perché altrimenti i cittadini ci massacreranno non sono sostenibili anche in una azione pubblica queste tesi ecco io credo che questo sia un elemento sul quale c'è bisogno ancora di un salto di qualità nella riflessione cosa che anche da parte di coloro che come me si sentono parte del partito dei beni comuni chiamiamoli così non hanno ancora risolto non hanno ancora risolto in maniera efficace dico due parole due sul tema dico perché rifiuto e acqua vanno insieme dal punto di vista concettuale perché noi ci siamo resi conto abbiamo noi avevamo la gestione la raccolta di smaltimento di rifiuto sotto era che noi in realtà pur volendo fare la raccolta differenziata non eravamo in grado di far partire un'economia del riciclo piena nel nostro territorio e perché perché non eravamo proprietari del rifiuto il rifiuto è un bene pubblico è diventato una volta era un problema adesso è un bene se noi non lo separiamo dallo smaltimento è chiaro che chi smaltisce ha interesse a smaltirlo con i mezzi che gli procurano maggiore profitto e ovviamente essendo Cina e Emilia Romagna otto inceneritori quale sarà il sistema più comodo e più remunerativo per smaltire punto interrogativo allora in questo caso la nostra battaglia è per costituire una società pubblica che si occupi solo della raccolta diventare proprietari del rifiuto e poi decidere noi come utilizzare questo rifiuto posto che noi vogliamo chiudere le discariche ovviamente posto che vogliamo incenerire meno e poi posto che vogliamo maggiormente preferiamo come dice l'Unione Europea il recupero di materie piuttosto che il recupero di energie punto questo è il tema ma questo è un tema classicamente politico in questo caso la società partecipata non è uno strumento veramente tecnico è come dicono gli studiosi che diciamo che si occupano di questo tema è già un attore politico perché il solo fatto di farla cambia il mio punto di vista su quella cosa cioè se io lascio il rifiuto dentro una gara che tiene insieme raccolta in smaltimento ho una visione della cosa rifiuto che va in una direzione se io la porto dentro una società separata e divento proprietario del rifiuto ho un'altra visione in questo caso la società partecipata fa la differenza ma fa la differenza non dal punto di vista gestionale dal punto di vista politico questo è una questione di cui noi ci siamo reso conti a poco a poco perché io ero convinto come tanti che bastasse cominciare a farla differenziata e poi con le società pubbliche e poi si andava avanti e invece no lo scontro degli interessi ci ho messo tre anni per capirlo non ci sono arrivato subito però meglio tardi che mai direte voi però in Italia non lo sta facendo ancora nessuno per cui vuol dire che qualche problemino qualche problemino dico nessuno uno scontro di questo tipo quindi vuol dire che qualche problemino c'è e d'altra parte ogni tanto bisogna cominciare da qualche parte ecco questi sono i temi che volevo semplicemente sottolineare e poi dall'altra parte indubbiamente questa enorme posizione ondivaga dell'elemento legislativo noi non dimentichiamo che fino a che la Corte Costituzionale non lo dichiarava incostituzionale avevamo la legge 138 del 2011 che aveva virato verso la privatizzazione del settore dei servizi pubblici locali in maniera massiccia e tante cose che oggi sono possibili anche in pratica seguendo quello che sono le normative comunitarie erano state sostanzialmente surrettiziamente in qualche modo vietate da quel disegno è chiaro che ci sono dei processi che comunque lo Stato ha messo in campo per esempio la dismissione delle quote di società partecipate nei comuni sotto i 30.000 abitanti sono una spinta verso la concentrazione delle esperienze può essere un dato positivo anche per riuscire a gestire servizi in una certa dimensione di ambito dall'altra parte il governo ha cercato di fare un'altra cosa una cosa questa volta positiva del governo Monti cioè quella di staccare la spina al sistema di connessione fra amministratori pubblici e poi che andavano a fare i dirigenti delle società partecipate con la legge di maggio del 2013 chi fa l'assessore chi fa il consigliere chi fa con l'amministratore pubblico eletto deve stare due anni senza avere nessun incarico di società partecipate o società private che hanno connessioni con le società partecipate quindi una norma draconiana tuttavia resa necessaria dal fatto che c'era un interscambio politico che creava questa sorta di attore parallelo che c'è nel nostro paese che in realtà fuori dello spazio della democrazia poi rischia di diventare un elemento di condizionamento pesante per le strutture democratiche del nostro paese io dico semplicemente che questi sono piccoli temi provenienti della mia esperienza vi ringrazio per aver avuto l'opportunità di esprimerli e credo che questo dica abbastanza di dove vorremmo cercare di andare grazie le ringraziamo noi davvero sindaco un altro di tutti gli interventi che abbiamo sentito oggi che avremmo voluto che ascoltasse anche il nostro sindaco che come avete visto pur essendo stato invitato con grande anticipo tre mesi fa sollecitato più volte ricordato più volte ci ha detto solo martedì ci ha fatto dire martedì scorso che non sarebbe venuto perché altro da fare e ci dispiace perché queste sono esperienze che aprono la mente che fanno vedere che c'è un'alternativa possibile a un modo di gestire le cose per noi la nostra città di Torino sul tema dell'acqua come adesso è stato citato il tema dei rifiuti e anche altro però